Se questo video ragazzi arriva a 10.000 like faremo la stessa identica cosa ma con un collare elettrico Quindi ogni volta che guarda parte della scorsa No potresti farlo sai che cosa? Con Zerbian Mami per vedere cosa guarda No 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 scusate ma Quello sto facendo questo? No no ma for- Siamo finalmente con Zerbian Papi Allora papà quello che faremo oggi è molto semplice perché già ridi? No 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 ridi perché so già che si andrà a fare delle s***** Mi può votare e fare Esatto però questa volta è più semplice perché inizialmente ti farò vedere i tiktok tranquilli, normali Poi andrei a votare dei tiktok con delle ragazze un po' più così Allora vai vediamo un po' Ferma la rec Cazzo è sta bolla? C'è una bolla C'è stato un virus schifoso che mi hai detto nel pc Non so come toglierlo Non lo so vabbè fai niente è una roba che è boh Allora cosa ne pensi di questa ragazza qui? È carina dai È carina è carina dai Una bella ragazza Una bella ragazza Ok ok Visino espressivo Questo qui dai anche questo qui Ma lui ma scusate che c***o voto il maschio? Voto un po' chiunque papà voto un po' chiunque Voto un po' chi vuoi Vabbè com'è la persona devi votare papà Ma secondo te posso votare il live? Ma che c***o mi stai facendo vedere scusate? Guarda tu guarda Ho capito ma cosa mi stai facendo vedere il video di tiktok del ruolo? Allora va bene vuoi che cambia subito video? Andiamo subito a quelli un po' più così No non ho capito cosa devo votare è diverso dall'altra volta Se ti piace il tiktok oppure no Allora papà devi votare questi tiktok qui Sei pronto? Insieme Via vai Voto il tiktok Allora Eh c***o devo dire È la classica Perché ridi? Dai è carina questa qui No ma perché mi stai facendo vedere scusate? Voto un po' il tiktok Mezzo nude Voto il tiktok papà devi votare semplicemente Eeeh brava E questa è carina? È carina Certo Ma questa è finta Secondo me non sto capendo il video Allora papà devi votare il tiktok che vedi Ho capito Questo fa la lingua Ma questo ma te c***o l'hai tirata è fuori Ma perché? Ma perché mi pare Ma dai Perché mi fanno ridere il tiktok che appaiono papà Mi fanno stranissi Sto capendo Possiamo fermo un attimo Allora Aspetta stop un secondo Aspetta Non sto capendo Che c***o devo votare Devi dire se il tiktok ti piace oppure no Ma fa schifo che tiktok sono Cioè il test tipo è mezzo nude Mezzo sono uomini Come questo ma Luca c'è qualcosa che non funziona C'è qualcosa Non so Cioè Non capisco perché continui a ridere Aspetta un secondo Sei sicuro che con la c***o di bolla C***o c'è quella bolla No perché c***o È un virus sessuale Perché mi sembra che vada sempre su culi e te Ma non so ma guarda che mi sta che il virus lo comandi te Esatto Sei veramente Sei veramente un bastardo Quello lì vede dove sto guardando Cancella tutto Tra l'altro vi ricordo cosa importante Cosa devono fare C***o Iscriviti al canale Ah la campanellina Iscriviti al canale Iscriviti Hai due canali Esatto Però soprattutto per ora questo Iscriviti Vabbè però Cioè posso dire una cosa ragazzi È normale che mi si presenta una Con le tette di fuori E il sedere di fuori Involontariamente Però un'occhiata gliela do Devi cercare di guardare solo la faccia Avevi però adesso che lo so È mai successo di incontrare qualcuno Tipo ti faccio un esempio Che ha un dente rotto E fissati il dente E tu dentro e te dici Non devo guardargli dentro E gli guardi solo il dente Dai guarda Aspetta aspetta Era una prova Puoi cambiare Continua col video Vi guarda solo la faccia Sto alzando la testa Ah perché è gli occhi che comanda Non la testa Se chiudo gli occhi Aspetta aspetta Provo a chiudere gli occhi Dimmi se c'è ancora il padrone No il padrone non sparisce Stop stop Il padrone non sparisce Se chiudo gli occhi Vai quindi Ma è normale Ragazzi se questo video Arriva a 10.000 like Ma che arriva? Non arrivo io A un anno di matrimonio Se questo video ragazzi Arriva a 10.000 like Faremo la stessa identica cosa Ma con un collare elettrico Quindi ogni volta che guarda Parte della scorsa No potresti farlo sai che cosa? Conservi a mami Per vedere cosa guarda Pure conservi a mami Fatemelo sapere sotto nei commenti Così io da dietro Esco da dietro Dovete assolutamente schiacciare Il pulsante rosso qua sotto Perché al raggiungimento Degli 800.000 iscritti Per colpa vostra Sarò costretto a lanciarmi da un aereo Iscrivetevi Anzi stai congiudato sulla faccia Dai questo qua Ho fatto un piccolo escursus Dai questo qua è facile Oh Dio Ti piace più quella in centro eh Ma anche quella a sinistra non è male Basta Anche quella a destra No No non vorrei che mi scappasse l'occhio E poi Vai Ah e ti ricordo Iscriviti al canale Mi raccomando Tasto sotto Ma basta Guardate il cuore Mi piace il muro in questo momento Dai Ok Allora Toggi Sono concentratissimo Te lo giuro Mettili bene Mettili bene Vado ora quando è brutto questo Ma non è vero No è bello Ecco l'aquila sul cuore Oh ma guarda Guardando Sto guardando Ma stai guardando Sto guardando Sto guardando ho detto Dai guarda Non voglio che ci siano dubbi Sulla mia personalità Sto guardando Ma che cazzo Sì, mi piace, mi piace, mi piace il controsoffitto. Io non so mai cosa amicare. Dai, no, papà, però se continui a guardare il suo... No, Luca, non posso farlo. Scusami contro la mia, a parte che non mi interesserebbero neanche di... Ok, allora facciamo, facciamo in un prossimo video, se volete, lo facciamo con le tiktoker italiane. Allora, visto che poi si pensa che io... Facciamo così, rimetti su qualche donnetta e ti dimostro che con un po' di concentrazione posso tranquillamente non guardare. Vai, allora, mettiti bene, posiziona bene così, cattura bene, la visceglie leggermente così, cattura bene. Ci sei? Vai, forza, 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 vabbè, dai, così, tranquillo, tranquillo, molto tranquillo. Beh, anche questa qui, anche questa qui è carina. Vabbè, ma dai, non si vede niente qui, va, ma... Ho, hai detto che lo facevi, è forza di volontà. No, voglio concentrarlo. No, guarda, l'antifumo. Forza di volontà, forza di volontà. Non scendere, no, 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 non lo fare, non lo fare. Resisti Resisti si è girata lei non guardare non guardare Beh dai simpatica questa è quella che abbastanza è abbastanza Cazzo ma sai che è difficilissimo E' difficilissimo No no non sono stato io non sono stato io c'è un altro occhio Ma che bella che bel nodo del costone Guarda 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 lui guarda lui guarda Scusate ma ma forse è incazzi No 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 allora attenzione attenzione mi dai un 6 almeno dai un po' sì un po' no sono riuscito un 6 un 6 qua non guarda Ora voglio provare l'ultima cosa l'ultima cosa Ora l'ultimo test papà sarà con le foto della mamma ok quindi molto facile tipo vediamo Tipo vediamo in questa qui ok e vabbè vabbè però ci sta Però qui la stai proprio fissando papà No sai cos'è che mi rendo conto che non penso di averla mai guardata in faccia Ah è lei quella lì è lei Va bene ragazzi io penso che il video possa finire qui mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campellina Ah è lei la mamma ma dai guardala non è neanche male di faccia no Ah 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 Grazie a tutti.